E tu? Presidente, la superintendenza ha un ruolo centrale però in tutto quanto, in tutto questo? Beh, diciamo che è fondamentale perché se oggi il ponte in muratura viene vincolato, potete capire che la situazione prende un'altra via, cioè il nostro, il nostro, cioè il vincolare quel ponte veramente si fa fatica, si fa fatica, anche perché il nuovo ponte comunque verrà realizzato sulla stessa sede stradale del ponte in muratura. Noi l'abbiamo più volte detto, comunque ho anche, in qualche modo anche da Presidente ho anche detto va bene, se vincolate quel ponte vi assumete anche la responsabilità e dal punto di vista idraulico la criticità di quel ponte, come ben sapete, ha otto campate, quindi è un ponte che qualcosa, diciamo, dal punto di vista idraulico è carente e a questo punto viene spontanea dire va bene, se resta quel ponte ve lo prendete in carico. Quindi noi sia Teramo che Ascoli non abbiamo nessuna intenzione di avere un ponte del genere su un fiume che in qualche modo, poi un fiume anche abbastanza importante come il fiume Trondo. Grazie.